E' quasi giunta al termine la stagione del Baveno Femmini Lander 15, che sta affrontando in queste settimane le ultime giornate del campionato primaverile. Nell'ultima gara, terminata con una sconfitta a casalinga per 3-2 contro il Venaria Reale, la squadra ha comunque mostrato segnali più che confortanti per il futuro. La partita è infatti sfuggita dalle mani delle Bianco-Blu soltanto negli ultimissimi minuti, dato che fino al novantesimo la squadra stava conducendo il match per 2-1. Abbiamo disputato un'ottima partita, commenta l'allenatore Diego Galli, ma nelle ultime fasi di gioco ha pesato la maggiore freschezza delle nostre avversarie. La maggior parte delle nostre ragazze sono infatti spesso impiegate sia nelle gare della nostra categoria, sia in quelle dell'Under 17, un doppio impegno che alla lunga si fa sentire dal punto di vista atletico. Siamo in ogni caso più che soddisfatti della stagione che stiamo disputando con tutte e tre le annate, Under 12, Under 15 e Under 17. Le ragazze sono cresciute molto, stiamo cercando di trasmettere loro la voglia di non buttare il pallone, ma di tentare sempre di giocarlo, tanto che per questa nostra filosofia abbiamo ricevuti complimenti da parte di numerose società. Il principale obiettivo per il prossimo anno deve essere quello di continuare sulla linea che abbiamo tracciato e al tempo stesso tentare di portare un numero maggiore di ragazze a conoscenza della nostra realtà, anche perché il progetto dichiarato da parte della società è quello di creare una prima squadra femminile. A tal proposito, Chiosa Galli, abbiamo organizzato un Open Day allo Stadio di Baveno alle ore 19 di martedì 28 maggio. Tra gli ultimi impegni stagionali per le calciatrici del Baveno, un torneo che si terrà sabato 1 e domenica 2 giugno in Emilia-Romagna e a cui parteciperanno tutte e tre le annate.